Hanno rapito un cittadino cinese per poi chiedere il riscatto alla moglie in Cina. Per questo la polizia di Firenze ha arrestato tre cittadini cinesi di età compresa tra i 30 e i 39 anni, tutti residenti nel Pratese. I tre sono accusati di avere in concorso sequestrato a scopo di estorsione un loro connazionale, poi rilasciato dopo il pagamento del corrispettivo di 20.000 euro. Al rapito avrebbero anche procurato lesioni giudicate guaribili con 30 giorni di prognosi. Le indagini, condotte dalla squadra mobile di Firenze con la collaborazione del commissariato di Empoli, sono partite nel gennaio dello scorso anno, dopo che un amico della vittima aveva denunciato l'episodio. Secondo quanto riferito, il rapimento sarebbe avvenuto intorno all'ora di pranzo nei pressi di un ristorante cinese nell'Empolese, dove almeno tre uomini, travisati con la mascherina, avrebbero prelevato l'ostaggio. Poco dopo, la moglie di quest'ultimo avrebbe ricevuto in Cina notizie dai rapitori, che chiedevano per la sua liberazione 20.000 euro da versare su una carta di credito di una banca cinese. Gli investigatori della polizia, monitorando gli spostamenti delle persone che ruotavano intorno alle conoscenze della persona rapita, sono poi riusciti a scoprire che la stessa era stata liberata tre giorni dopo nell'Empolese. Le misure cautelari sono state emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, su richiesta della DDA, la Direzione Distrittuale Antimafia, del capoluogo toscano.